A presto. Quando arrivo a casa mi piacerebbe. Vado a smontare e vedere come c'è. Quello oggi sono sigillato. Si, sigillato. Si, sigillato. Tu hai mai visto un olio tirato giù da una volta quando si è stato lì? Eh, no. E' il coloro della sabbia. Occhio! Eh. Che va? Allora? Che vuolo? Che vuolo? Oh, mettiamo che la p'tita giù, che? Eh, non c'è... P���eto la piazza, è un po' qui? Ah, non c'è una... No, in seco la scuola... Vengalo! La scuola a scuola a scuola... Sento. Va! 117 sono dalla benzina e da là la benzina erano 90 e da là erano altri problemi beh c'aveva la descripibile questa qua non erano 140 adesso è la ordine a destra beh poteva essere che non arrivavano se la batteria a zero sono cazzo vedete che avete dietro? si vediamo però non carica più vuol dire non è la batteria non è la batteria non carichi più bisogna mettere la mattina se mette sotto carica cioè la sera arriva arriva e il giorno lo fai tranquillo e personalmente? no e non abbiamo neanche la vita adesso no leuvo anche le Independent il app 2017 le puerto sei passare c'è ma le sta non è è sostanzi le anche i